... per la vostra vita con un pigiama numerato. Capito? Capito? Io non aspetto altro che il momento di farvi sbattere in mezzo alla storia. Un procuratore generale trattato come una pezzo da piedi. La tua polizia, ho finito a quattro, la fai, ti sei uno stando e non dico a nessuno. Io mi rovino. Bel colpaccio, eh? Eh sì, se ci dice bene, finiamo nella lenda. Magari sarà come tornare a casa. Vedete che ce l'hai, ragazzi. Lo streggiato è qui, signore. Sì? Bene. Le abbiamo recuperate tutte. Bene. Mica tanto. Abbiamo visto i due sbirri del porto, che uscivano dalla casa del cinese poco prima che arrivassero. Strano. Non è lavoro per due metropolitani. Quest'affare posta di ufficio a narcotici, lontano un minuto. Li dobbiamo eliminare. Per scatenarci indietro, tutta la polizia è notata. No. Sei mesi l'ospedale passerà. E' vero. Sì.